Costruire il futuro del Malawi attraverso la cura delle famiglie, l'attenzione ai giovani e soprattutto ai malati. La risortazione di Papa Francesco nel discorso consegnato ai Vescovi del Paese ricevuti stamane in Vaticano. Ai presuli, venuti dal cuore caldo dell'Africa, il Pontefice ha ricordato l'importanza di vivere nell'unità per trasmettere il messaggio evangelico di riconciliazione, giustizia e pace. Desidero esprimere il mio apprezzamento, scrive il Papa, per la gente del Malawi che nonostante seri ostacoli in termini di sviluppo, progresso economico e condizioni di vita resta solida nell'impegno e nella vita familiare. È infatti nella famiglia che la società e la Chiesa trovano le risorse per costruire una cultura di solidarietà. Poi l'invito ai Vescovi a lavorare per nutrire anche la famiglia della Chiesa con una particolare attenzione alla formazione di uomini e donne capaci di evangelizzare e di sacerdoti generosi. Ma il Papa esorta anche a proseguire nella formazione di persone preparate ad affrontare il ministero sacerdotale. Infine uno sguardo alla difficile situazione sanitaria del Malawi dove è grande la povertà e l'aspettativa di vita è molto ridotta Il pensiero di Francesco va a tutti coloro che soffrono per l'AIDS, agli orfani e al servizio che la Chiesa offre per loro avendo come modello Cristo. Siamo discepoli del Signore e conclude nell'impegno per i malati, i poveri e gli indigenti.